Se hai deciso di iniziare un corso di pugilato, di kickboxing o di sport da combattimento in genere, prima di intraprendere tutto il percorso per imparare i colpi, quindi colpi di braccia, colpi di gambe, ti consiglio di soffermarti e di imparare bene questi tre punti fondamentali. Primo, impara a saltare con la corda. Infatti il saltello con la corda è fondamentale perché, oltre a darmi una grandissima velocità ed esplosività sugli avampiedi, mi abitua molto alla coordinazione che mi servirà e sarà fondamentale per qualsiasi sport da combattimento. È un ottimo strumento di riscaldamento e anche e soprattutto per aumentare la mia capacità aerobica. Secondo punto, imparare tutti gli spostamenti sulle gambe. Fondamentale sempre per imparare la coordinazione per poi introdurre tutti i colpi. Quindi avere una buona mobilità sulle gambe sarà un ottimo spunto per diventare poi un buon atleta nel futuro. Terzo punto fondamentale è imparare tutti i movimenti con il tronco. Infatti imparare i movimenti con il tronco, oltre a farmi diventare un bersaglio mobile per l'avversario, mi aiuterà tantissimo a schivare i colpi e, oltre alla schivata, anche a caricare maggiormente i colpi verso l'avversario. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like ed iscriviti al canale. Ciao!